Ritornano le giornate europee del patrimonio? Sì, la soprintendenza è impegnata con circa una trentina di eventi che vedranno coinvolte la provincia di Salerno e la provincia di Avellino. Tutto il territorio di competenza della soprintendenza con l'apertura di una serie di siti abitualmente aperti all'interno dei quali saranno organizzate delle manifestazioni in collaborazione con gli enti locali, con le province e con le associazioni del territorio ma anche con la possibilità di accedere ad aree che di solito sono chiuse e devo dire con un certo orgoglio una di queste è l'area della Villa Romana di San Leonardo che finalmente è diventata di proprietà del Ministero dei Beni Culturali dopo una lunga iniziativa di acquisizione che è durata quasi 20 anni ed è la prima iniziativa che si organizza a seguito di un protocollo di intesa tra la soprintendenza e la Fondazione Comunità Salernitana. che vede impegnata la Fondazione, l'Associazione Cucugaie che è un'associazione del territorio che si può valere della presenza di numerosi professionisti che hanno collaborato e lavorato anche per il Ministero dei Beni Culturali e che quindi danno una garanzia di qualità e anche del supporto della comunità Emmaus che ha provveduto al diserbo dell'area che appunto è stata solo recentemente acquisita e con una partecipazione devo dire esemplare dei ragazzi a tutte le operazioni sotto la direzione della soprintendenza e dell'Associazione Cucugaie. La giornata di domenica è ricca di appuntamenti soprattutto alla Villa Romana? La Villa Romana domenica ci sarà un concerto aperitivo alle 11 e sarà una sorta appunto di introduzione al sito che speriamo possa diventare un appuntamento abituale delle giornate e degli eventi promossi dal Ministero. Ci sono ovviamente altri eventi in tutta la città e in tutta la provincia. Io che mi occupo del patrimonio archeologico mi permetto di segnalare a chi ha la possibilità di visitare il sito di Casella in Pittari che è un sito eccezionale del Cilento in cui da qualche anno gli scavi dell'Università di Salerno con la professoressa Antonia Serritella stanno mettendo in luce un abitato lucano articolato che sta dando ogni anno delle sorprese eccezionali. È un sito in cui si scrive, si scrive moltissimo, si scrive in greco, vengono fuori dei materiali preziosissimi e soprattutto finalmente si riesce a ricostruire per intero la forma di una città lucana di IV secolo. Una buona sinergia anche con il Comune di Casella. Sì, anche con il Comune di Casella, Università, Soprintendenza e Comune collaborano da tempo alle attività di promozione e valorizzazione del sito che appunto è un sito straordinario perché è un sito esteso e offre possibilità di lavoro per i prossimi anni, insomma per tutti. E tra l'altro il Comune è particolarmente sensibile a tutte le iniziative volte alla promozione è particolarmente disponibile anche ad accogliere gli studenti dell'Università di Salerno e quindi a elaborare insieme in sinergia un programma di recupero totale del sito, di recupero integrato del sito, quindi anche con l'inserimento, con la tutela delle emergenze e l'inserimento del sito all'interno del paesaggio antico.